Prima di dare avvio al video, ti prego di premere il pulsante di iscrizione e di lasciare un gentile segno di apprezzamento. Grazie per la tua partecipazione, un'ombra si è abbattuta sulla storia di Cata, la giovane peruviana il cui sorriso è stato spento in modo crudele. Sono trascorsi quasi due mesi da quando il suo mondo si è dissolto nel nulla. Nel cortile di un ex albergo abbandonato a Firenze, dove giocava spensierata, è stata cancellata dalla vista di tutti. Gli investigatori ritengono che la sua sparizione fosse orchestrata con precisione, in un intricato labirinto di rivalità e dissidi tra coloro che occupavano gli angusti spazi delle stanze dell'hotel, da una telecamera di sorveglianza. Nuove immagini hanno catturato l'ultima traccia visibile di Cata. Le registrazioni mostrano la piccola mentre scende le scale esterne dell'hotel Astor, una danza furtiva tra le ombre del passato. Quel frammento di tempo segna l'ultima testimonianza di lei. Ma c'è un ulteriore frammento, un sottile nastro di verità, che giace nelle mani degli investigatori. Un video di 27 secondi, estratto da una telecamera in via Luigi Boccherini, inquadra il vecchio hotel Astor di Firenze. In quei pochi istanti, possiamo vederla salire le scale dell'edificio e poi uscirne di corsa, come se fosse stata attesa da qualcosa o qualcuno con ansia palpabile, tra le ipotesi oscure che circondano questo mistero. Una teoria emerge in modo sinistro. C'è chi crede che l'autore di questa tragedia abbia affondato Cata in un abisso di oscurità, nel fiume Arno, o forse ha gettato via il suo corpo, spogliandolo dell'ultimo bagliore di vita. Ma, ci chiediamo, quale verità può emergere da tanta oscurità? E quale ipotesi può dirsi più convincente? Anche secondo la vostra percezione, ricorda, prima di procedere con il video, di premere il pulsante per iscriverti e di lasciare il tuo segno di apprezzamento. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le sfumature del mistero.